Sono stati 160.000 i prestiti concessi dalle biblioteche di Piacenza nel 2012, il 10% in più rispetto all'anno precedente, merito dell'incremento dell'offerta ma probabilmente anche della crisi economica. Considerevole l'aumento di prestiti della biblioteca farnesiana, in continuo aumento i fruitori dei servizi internet, le prenotazioni online sono cresciute del 30%. È un bilancio molto molto positivo, è l'anno migliore di tutta la storia della biblioteca, persino i dati sono più alti del 2010 che pure era stato un anno eccezionale. Tutte le biblioteche sono in positivo, cioè i numeri sono in rialzo. Noi non sappiamo se questo vuol dire che abbiamo risposto alle esigenze, alle richieste dei cittadini oppure anche la crisi fa la sua parte in tutto questo. Sicuramente noi siamo molto soddisfatti. L'amministrazione comunale sta completando l'iter burocratico per l'apertura serale della biblioteca richiesta dai ragazzi.